Ciao, mi chiamo Rachel. Nel mio edificio ci sono due stanze dove i studenti studiano e si rilassano. Nella prima stanza c'è una televisione, tre stovani azzurri e due poltrone. Mi piace la televisione perché voglio guardare il film durante il fine settimana. Qui ci sono le scale per andare alle camere al quarto piano. Qui è l'altra camera. Questa stanza è spaziosa e grande. Non è un'televazione, ma ci sono molto mobili, quindi la stanza è un buon locale per studiare. Ci sono tre divani, due poltrone, due tavoli e molte sedie. Preferisco studiare a questo tavolo. È molto comodo, tranquillo e silenzioso. Quando voglio rilassarmi, dormo nel divano azzurri. Qualche volta i miei amici ed io parliamo e mangiamo in questa stanza. Anche ci piace avere feste qui. Noi compriamo molto cibo e bailiamo alla musica rock. Mi piace le due stanze che le ho appena mostrato perché sono locali dove poter studiare e rilassarmi vicino alla mia camera. Grazie a tutti.